SCIENZE LA MATERIA Il peso specifico è la forza di gravità sulla densità. Lo stato di aggregazione è il legame tra le particelle. La materia è materia, né nobile né vile, infinitamente trasformabile e non importa affatto quale sia la sua origine prossima. Primo Levi Cos'è la materia? La materia è tutto ciò che riesci a percepire con i tuoi sensi come ingombro, tutto ciò che occupa uno spazio e possiede una massa. Le caratteristiche di un corpo Il peso, misurato in Newton, è la trazione gravitazionale, forza di gravità, verso il centro del pianeta. La massa, misurata in chili, è la quantità di materia di cui un corpo è fatto. Il volume, misurato in metri cubi, è la quantità di spazio occupata da un corpo. La densità è il rapporto tra massa e volume, proprietà intensiva della materia che dipende da temperatura e pressione. Il peso specifico è il rapporto tra peso e volume, dipendente quindi dall'accelerazione gravitazionale. Gli stati di aggregazione sono tre. Stato solido, ovvero i solidi hanno forma e volume propri. Stato gassoso, i gas non hanno né forma né volume propri. E stato liquido, i liquidi hanno volume proprio e assumono la forma del contenitore in cui si trovano. Modello particellare Il comportamento delle particelle nei vari stati è spiegato dalle minuscole particelle che costituiscono la materia. Per approfondimenti potete consultare treccani, chimica online, scienza scuola. Grazie. 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 Grazie a tutti.